Si sapeva che sarebbe stata una partita difficile poi prendere un gol così a un quarto d'ora della fine, un po' fortunoso, è ancora più difficile da recuperare? No, no, comunque loro sono una buonissima squadra sotto l'aspetto tecnico-tattico, abbiamo fatto fatica, non è facile comunque stare sul pezzo anche in settimana, però siamo venuti qua con la consapevolezza di far bene, cioè dal mio parere comunque siamo sulla strada giusta perché abbiamo tenuto fino quasi alla fine, poi vabbè abbiamo preso l'1-0 e dopo è stata dura la recuperazione. Difficile anche da recuperare perché c'erano tanti infortuni, non vanno presi come alibi, come scusa, però comunque pesano quando si gioca a tre giorni di distanza. Sì, soprattutto quello e vabbè cerchiamo comunque di pedalare tutti insieme, di rimanere uniti e cercare di far bene. Adesso si riparte subito domenica con una trasferta che ai più potrebbe sembrare facile ma sicuramente non lo è. No, no, perché andiamo ad affrontare una squadra ostica e il nostro obiettivo comunque è quello sempre di andare a fare i tre punti e lavoreremo adesso domani e venerdì per preparare al meglio la partita e andare a prenderci la vittoria.